25 proloco, 50.000 accessi al sito e 60.000 persone che hanno interagito sui social con il picco delle dirette sulle pagine Facebook. Si è conclusa con un grande successo la Digital Edition del Natale che non ti aspetti, uno dei più grandi eventi del centro Italia che si è svolto dall'8 dicembre al 6 gennaio. Nonostante le singole iniziative siano state annullate a causa della pandemia, gli organizzatori hanno pensato ad una rete virtuosa ma digitale per far sì che la manifestazione avvenisse nel rispetto delle regole e della tradizione. Sì, il Natale che non ti aspetti ha dato un risultato straordinario, 110.000 contatti grazie al lavoro dei tanti volontari, stiamo lavorando per il futuro per mettere insieme sia l'edizione digitale che in presenza, quindi un grande successo straordinario tutto questo grazie al lavoro prezioso di oltre 100 volontari. Bartocetti ha poi ringraziato la Regione Marche per il sostegno fondamentale. L'Ente infatti ha dato un contributo all'iniziativa coordinata dalla Proloco di Pesero Urbino in collaborazione con la provincia e con Commercio Marche Nord. Sì, un contributo che abbiamo voluto fortemente e che mi auguro il prossimo anno farà rivivere ancora di più i nostri borghi, quindi un ringraziamento speciale alla Proloco di Pesero Urbino e a tutte le singole Proloco che hanno portato avanti, nonostante l'anno, l'iniziativa tramite i social e il sito internet.